Cari amici di Studio 90 Italia, continua il nostro percorso nel conoscere ancora meglio gli artisti protagonisti del momento. Non parlo solo del Festival di Sanremo perché lui comunque ha già una storia importante, è un cantautore della scena indie che ho apprezzato tantissimo anche prima del Festival di Sanremo e ci ha regalato veramente dei grandi successi, ha avuto anche tantissimi apprezzamenti. Voglio parlarne subito con lui anche perché già sappiamo che era stato premiato con la Targatenco come miglior giovane indipendente dell'anno con Roccoli nel 2019. Quindi insomma non è sicuramente una figura nuova nel settore musicale ma è un ragazzo che ci regalerà ancora tantissimi successi. Filippo, ovvero Fulminacci, ciao, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, ciao, buongiorno a tutti. Senti sono contentissima di parlare con te perché tu sei giovanissimo ma sei davvero un cantautore con la C maiuscola che a questo Festival di Sanremo ci ha regalato veramente un bel brano. Santa Marinella mi è piaciuto tantissimo. Ti ringrazio tanto davvero, è molto bello sentirmelo dire, mi sono divertito tanto su quel palco e spero di essere arrivato il più possibile. Sei arrivato, sei arrivato, è come se sei arrivato e sicuramente lo vedrai perché poi è il dopo Festival quello che conta, cioè quanto si suona in giro e soprattutto quello che le radio e che tutti gli altri ascoltano attraverso la tua musica. Senti, nel 2019 tu hai ricevuto un premio, ma quel premio ti aveva fatto già capire che ci sarebbe stata una svolta? Beh, quel premio comunque, parliamo del premio Tenko ovviamente, stiamo parlando di quello. Beh, comunque, tra l'altro viene consegnato sullo stesso palco dell'Ariston, no? Per cui è molto emozionante già di per sé, anche se non c'è tutta la scenografia di Sanremo. Si porta comunque dietro una grossa storia, un nome piuttosto importante, direi. Per cui sicuramente la responsabilità che sento è tantissima. Mi ha fatto anche un po' paura, non lo nego, perché ho detto, oddio, adesso non posso deludere, insomma. C'è un po' quella cosa là in testa, però spero di fare sempre meglio, spero di aver colto l'occasione di aver ricevuto questo riconoscimento per lavorare meglio e non vedo l'ora che mi dicano che cosa ne pensano del nuovo album, insomma. Che esce proprio oggi, 12 marzo, esce questo nuovo album, Tante Care Cose, dove ti vedremo in mille sfaccettature e in tanti racconti. Senti, ma chi ti ha trasmesso questa passione per il cantautorato? Perché poi, insomma, alla tua età adesso si va un po' a fare anche altro. Invece il cantautorato classico, direi, con delle belle sfumature. Eh sì, guarda, a me piace molto il cantautorato italiano classico degli anni 70, ma anche quello più recente. Io credo che non sia mai morto in realtà, penso che non si possa parlare di qualcosa di finito che io e qualcun altro sta recuperando. Secondo me c'è sempre stato, anche nove anni fa, otto anni fa, non è che è mai finito, non è che c'era dei Gregori Dalla e poi fine, c'è sempre stata una scena cantautorale, per cui io mi sento solamente l'ennesimo che fa questa cosa fondamentalmente. E la passione me l'hanno trasmessa i miei genitori perché sentivo le canzoni in macchina durante i viaggi per andare chissà dove, insomma. Però è una cosa che è venuta abbastanza naturalmente, mi sono appassionato. Ma io ho sempre ascoltato tante cose differenti, sia rapper che cantautori, nelle stesse playlist, insomma. Invece per quanto riguarda Santa Marinella, quindi ritornando anche al brano Sanremese che farà parte appunto di tante care cose, tu racconti questa storia che non è proprio una storia che hai vissuto, ma è una storia che mi pare abbia vissuto già un tuo amico e praticamente la ricanti, la canti come se fosse una tua storia e in questo modo molto leggero, in questo modo davvero che ci trascina, ci fa pensare veramente a quanto sia importante quanto alla leggerezza. Ma a te cosa rassicura? A me rassicura sicuramente il fatto di sapere che ci sono persone che mi vogliono bene, no? Cioè è una cosa forse un po' banale da dire, però penso che la cosa che rassicura di più sia avere una vita privata solida, no? Qualcosa che ti fa stare bene con le persone che hai intorno, che ti vogliono bene da sempre, insomma, no? Quel tipo di cosa lì mi rassicura. Poi alla fine è anche la cosa più importante, in effetti. È la cosa più importante, è la cosa più importante. Quindi tante care cose, questo nuovo album con dieci tracce, ma nelle tue canzoni, in questo album soprattutto, cosa hai cercato principalmente di trasmettere e di dire a chi ti sta seguendo? Allora, con questo album io in qualche modo voglio fare un augurio, anche nel titolo stesso tante care cose, cioè c'è un augurio che può essere anche preso come sarcastico, ma nel mio caso spero che passi solo la tenerezza, o quantomeno era quello che volevo. Ed è un augurio che faccio in un periodo molto triste che stiamo vivendo. La copertina rappresenta in qualche modo una festa, io ci vedo una grande festa in occasione di un grande evento, per cui non vedo l'ora che si possa tornare tutti insieme ad abbracciarci, a fare concerti, feste, quello che ci pare, matrimoni, quello che vogliamo. Anche a citofonare puoi scappare. Anche a citofonare puoi scappare, comunque in realtà è covid free il citofonare, si può fare, va se ti disinfetti dopo con la mia. È vero. Il citofonare puoi scappare lo possiamo fare anche in zona rossa. Va bene, va bene. Ma l'hai fatto? L'hai mai fatto? Io sì, onestamente. Tu l'hai mai fatto? Anche da bambino l'ho fatto, però non abbastanza, se ho avuto voglia di scriverlo in una canzone vuol dire che c'è qualcosa di irrisolto, vorrei averlo fatto più volte. Ora bisogna continuare, mi sa. Sì, assolutamente. Fulminacci, noi non vediamo l'ora già di poter ascoltare per bene questo nuovo album e di poterti vedere live durante i concerti, che è la cosa che ci auguriamo di più, anche perché purtroppo in questo periodo ci siamo un po' tutti fermati, vi siete un po' fermati e quindi abbiamo bisogno di rivedere live e concerti, quindi ci saranno in programma. Anche io ne ho bisogno, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Io ti ringrazio per essere stato con me, Fulminacci, grazie, grazie, grazie. Ci vediamo presto, ti aspetto in Sicilia e anche in studio, speriamo di incontrarci anche dal vivo. Molto volentieri. Andiamo insieme a citofonare, scappiamo, è un caso. Dai, dai, andiamo insieme a citofonare. Grazie mille, Fulminacci. Ciao, grazie a voi, ciao.